Sono partito da solo, adesso siamo in quattro persone. Sono Paolo Carrara, sono artigiano da circa 22 anni. Il Covid diciamo che noi artigiani guardiamo anche alle persone quando si è presentato il problema proprio di comune accordo chi voleva subito stare a casa è stato subito a casa perché prima di tutto la cosa più importante è la famiglia, la salute dei familiari, dei nonni, dei bambini, delle mogli. Io e mio nipote Stefano abbiamo preso, abbiamo fatto quel che potevamo fare all'ospedale a campo. La cosa più bella è stata proprio la sinergia di tutte le persone che lavoravano. Non capiterà più che si lavora in un cantiere con qualche centinaio di persone e sentire solo scusa e grazie. È importante avere una scarpa che abbia un buon grip quando sali in certi posti, vedo io dove lavoriamo in posti che c'è giù l'olio, l'olio diatermio, così è importantissimo avere una scarpa adeguata. iscriviti al canale Grazie a tutti.